Il famoso giornalista investigativo Greg Pallast per la rivista Rolling Stones e per la BBC ha rivelato di avere scoperto l'esistenza di un'operazione condotta in ben 28 stati dell'Unione per cancellare dalle liste elettorali centinaia di migliaia di votanti di pelle nera. In quanto pregiudicati penalmente, ho sotto inchiesta. A capo dell'operazione ci sarebbe stato uno dei più potenti uomini di Trump, il segretario dello Stato del Texas Chris Kobach. Stesso identico schema che fu adottato nel 2000, in Florida e altrove per portare alla presidenza George Bush Jr. Ma anche la candidata sconfitta non è stata da meno. Secondo uno studio condotto dall'Università di Stanford, sulla scala minore delle primarie, Hillary avrebbe sconfitto Bernie Sanders con diversi gradi di pressione e di esplicita corruzione sull'apparato del Partito Democratico. La cosa tuttavia non necessariamente può destare eccessivo clamore. Nell'era dell'inganno universale, tutto ciò che appare ha la possibilità di essere falso. O per meglio dire, vero e falso nello stesso tempo. Mentre ci prepariamo ad allacciare le cinture, tutti gli occhi sono puntati sugli uomini della nuova squadra presidenziale americana. Nel corso di questa settimana, Donald Trump potrebbe riempire le caselle più delicate del suo governo. Il nuovo capo della CIA, stando alle ultime indiscrezioni, sarebbe Mike Pompeo, neocon che in uno dei suoi ultimi tweet inneggia la necessità di cancellare l'intera trattativa di Obama degli europei con l'Iran. Michael Flynn occuperebbe il ruolo di consigliere per la sicurezza nazionale. Il generale, già direttore con Barack Obama della DIA, Defense Intelligence Agency, una delle agenzie di spionaggio degli Stati Uniti, è anche egli fautore della cancellazione dell'accordo con l'Iran. Per i Dem, pericolosa sarebbe la sua simpatia per il presidente russo Vladimir Putin. Per il posto di segretario della difesa, spunta il nome del generale David Petraeus, ex direttore della CIA e comandante delle truppe statunitensi in Iraq e in Afghanistan. Era lui a coordinare gli uomini a capo dei centri segreti di tortura. Mitt Romney, candidato sconfitto del Grand Old Party, corre per la carica di segretario di Stato insieme a Rudolf Giuliani, ex sindaco di New York, durante l'attentato dell'11 settembre del 2001. I nomi di certo non autorizzano a nessun ottimismo, ma la lotta interna agli Stati Uniti d'America è tutt'altro che chiusa. Ci aspettano rumorose novità da qui al 19 dicembre, giorno del pronunciamento dei grandi elettori, e da qui al 20 gennaio, giorno dell'insediamento di Donald Trump. A Lima, nel fine settimana, si è svolto il vertice APEC. Al centro del dibattito, TTP è partenariato economico regionale, due zone di libero scambio nella regione asiatico-pacifica promosse rispettivamente da Stati Uniti e Cina. Secondo Obama, se Donald Trump boccerà il trattato transpacifico, gli Stati Uniti non potranno determinare le regole del commercio globale. Ora, dopo la decisione della Casa Bianca di passare la palla a Trump, a spingere per l'adesione al TTP è il premier giapponese Shinzo Abe. Intanto, Pechino ha convinto due stati dell'America Latina, Peru e Cile, a unirsi al partenariato economico regionale, che fino a quel momento comprendeva, oltre all'Australia, soltanto paesi asiatici. Inoltre, sempre nell'ambito del vertice, il leader cinese Xi Jinping e il presidente russo Vladimir Putin si sono impegnati a creare una zona di libero scambio che veda la partecipazione di Russia e Cina. La delegazione cinese, tuttavia, non esclude che TTP e partenariato economico regionale possano coesistere e completarsi a vicenda. Molte le questioni ancora senza risposta. Molto dipenderà dalle prossime mosse di Donald Trump. Il presidente americano uscente Barack Obama ha disposto il blocco a tutte le nuove trivellazioni nell'Artico, nell'ambito del piano che regola l'attività di ricerca di petrolio e gas per i prossimi cinque anni. Una decisione presa con la valutazione dell'ambiente unico e difficile. La regione artica è notoriamente esposta a forti rischi climatici, dal momento che l'aumento della temperatura globale incide sullo scioglimento dei ghiacci e sulla vita di balene, orsi polari e foche. In quest'ultimo periodo molte compagnie hanno sospeso le trivellazioni per costi di estrazione del petrolio troppo elevati. Il presidente eletto Donald Trump potrebbe cercare di emendare il piano, ma il procedimento potrebbe protrarsi per anni interi. In Francia, François Fillon ha vinto il primo turno delle primarie del centro-destra con ben 16 punti di scarto sull'ex premier Alain Juppé e doppiando addirittura l'ex presidente della Repubblica, Nicolas Sarkozy, che ha annunciato il ritiro dalla politica. I sondaggisti, come tutti gli osservatori e commentatori, si sono nuovamente sbagliati. Il vincitore delle primarie, ex primo ministro di Sarkozy, portavoce di una destra liberale, tradizionale, cattolica e identitaria, è convinto che servono maggiori e migliori relazioni con la Russia di Putin, cosa che potrebbe cambiare profondamente la politica estera della Francia. Damasco ha respinto la proposta dell'inviato speciale dell'ONU per la Siria, Staffan de Mistura, di cedere alle poeste ai guerriglieri. Per il ministro degli esteri siriano Walid Mohallem si tratterebbe di una violazione della sovranità nazionale e di promozione del terrorismo. Di fatto, l'ONU interviene a difesa degli interessi di Al-Qaeda, proponendo di legittimare Al-Nusra. Intanto, nella corsa El-Bab, la Turchia sembra avere la meglio sui curdi. Tra sabato e domenica, i guerriglieri filo-turchi provenienti da nord si sono avvicinati alla città, punto strategicamente importante tra le due enclave kurde della Siria. L'eventuale successo di Ankara e El-Bab segnerebbe la fine del progetto kurdo di un Kurdistan siriano indipendente. Domenica 20 novembre, la NATO ha dato il via all'imponente esercitazione militare Iron Sword 2016 in Lituania. Nelle prossime due settimane, 4.000 soldati provenienti da 11 Paesi membri dell'Alleanza Atlantica, impareranno a condurre operazioni militari congiunte difensive e offensive. Intanto, sabato 19 novembre, la difesa francese ha annunciato l'invio di 300 soldati e 5 carri armati in Estonia nel 2017, ancora una volta contro la Russia. A San Marino sarà ballottaggio tra la coalizione Adesso.sm, composta dai partiti e scheramenti Repubblica Futura, Civico X e Sinistra Socialista Democratica, e la coalizione San Marino Prima di tutto, composta dal Partito dei Socialisti Democratici, Democrazia Cristiana, San Marinesi e Partito Socialista. La coalizione San Marino Prima di tutto si è attestata al 41,68%, portando a casa 25 seggi, mentre Adesso.sm, con il 31,43%, ha ottenuto 20 seggi. Ottimo risultato anche per la coalizione Democrazia e Movimento, che ha raddoppiato i voti portandosi il 23,18% dei consensi. All'interno della coalizione, il Movimento Rete ha triplicato il numero dei propri consiglieri, diventando di fatto la seconda forza politica del Paese. Queste lezioni politiche sono le prime dopo che il Titano è stato travolto da una serie di scandali giudiziari che hanno portato in carcere per tangenti nomi eccellenti della politica locale. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti